È il quinto anno di crisi, il quinto anno passato ad arrancare. La CGL tira le somme e controlla lo stato di salute di un mercato, quello del lavoro, che aspetta una ripresa che ancora non si vede. I dati che emergono sia per quanto riguarda gli avviamenti, sia per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, confermano il fatto che dopo una leggera ripresa che si era determinata a metà del 2011, ci troviamo dal secondo semestre del 2011 e tutto il primo semestre del 2012 in una condizione di perdita dal punto di vista dell'occupazione. Però c'è un dato che anche il sindacato cita nel proprio rapporto. Nonostante la crisi, nei primi cinque mesi del 2012 sono stati assunti 60.000 lavoratori a tempo indeterminato a fronte di 6.436 persone licenziate per motivi economici. Saldo ampiamente positivo quindi a leggere i numeri, ma la CGL puntualizza. Parla di una sorta di svecchiamento messo in atto dalle imprese, con qualcuno che sfrutta la crisi per avviare un ricambio generazionale votato al risparmio e poi i contratti a tempo indeterminato spesso non lo sono, o almeno lo sono solo sulla carta. Vista la volatilità del mercato, spesso si finisce in cassa integrazione a stretto giro oppure subentra la mobilità. Servirebbe che le istituzioni fossero in grado di interpretare i dati, intercettando questi segnali del mercato per mettere in pratica politiche di natura contrattuale. E invece la nuova legge, la riforma del lavoro, si fonda su una sioma che tale non è. L'apprendistato dovrebbe essere centrale, i numeri dicono altro e risalire sarà complicato. I dati che abbiamo relativi alla situazione attuale dell'apprendistato ci parla di 12.000 apprendisti tra Milano e provincia e di un inserimento lavorativo che percentualmente non supera l'1,5%. Quindi se questo effettivamente, come prevede la legge, dovesse essere la forma prevalente di inserimento lavorativo oltre all'assunzione a tempo indeterminato, è del tutto evidente che deve essere fortemente incentivato perché partiamo da dati che sono assolutamente irrilevanti su tutto il territorio di Milano e della Lombardia. Grazie a tutti.